Nell'ambito della mostra Mercato Val d'Europa che ritorna a Montevarchi in questo fine aprile dopo diversi anni, ecco la novità di Valdarno Spring Festival, otto serate dedicate all'arte in generale, passando dalla musica al cinema alla letteratura, intrattenimento per i più giovani, non solo con un programma davvero variegato. Sono varie serate che vanno a 24 aprile il primo maggio, la prima sarà a cura del centro musicale Valdarnese Sonora, poi il giovedì 25 aprile invece sarà dedicato a una rassegna cinematografica curata dalla Cineteca Nazionale Fedice, dal presidente Daniele Corsi, dove verranno proiettati sia delle opere create da autori del territorio e un altro che ci ha stupiti è un cortometraggio che fa parte di un vero e proprio film, dove all'interno recita il, noi lo conosciamo come tenore, ma diciamo tenore attore Luca Canonici. Spazio poi alla musica interculturale. Concerto dell'International Panic, dopo a seguire invece una mini DJ set del gruppo della Mette Bene. Il 27 aprile avremo invece la serata dedicata a Hydra The Series, che è la serie creata qui in Val d'Arno e che ha da poco ricevuto anche un prestigioso premio a Los Angeles, e a seguire il concerto dei Wild Beat Collision, che appunto hanno curato anche le musiche di questa serie. Chiusura quindi con appuntamenti legati al Val d'Arno. Domenica 28 aprile, concerto Gruppo Mesami, che è l'unico gruppo che non è del territorio ma è di Firenze, ma che abbiamo conosciuto per l'U Festival di Montevarchi. Il lunedì 29 aprile invece ci sarà uno spettacolo delle associazioni sportive di Montevarchi. Martedì 30 aprile il concerto dei Basta, che sono i vincitori appunto dell'U Festival 2012 e mercoledì 1 maggio il concerto dei Revolution One, che è sempre una band del Val d'Arno. Questi sono dunque motivi in più per frequentare Val d'Europa all'evento al ritorno dopo molti anni di silenzio.